Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Enphase. Oggi vi mostrerò come programmare correttamente il numero di fasi con il nuovo IQ Relay. L'IQ Relay esce di fabbrica con un'impostazione trifase predefinita, quindi per impianti monofase è necessario andare a programmare il corretto numero di fasi collegate. Come vedete le morsettiere consentono di andare a collegare sia impianti monofase che trifase. La programmazione è molto semplice, basta tenere premuto a lungo il tastino test qua presente nell'interfaccia dell'IQ Relay e dopo circa 6 secondi i led relativi alla tensione inizieranno a lampeggiare in sequenza. Quindi sarà sufficiente rilasciare il tasto test e nel momento in cui lampeggerà solo il numero di led relativo al numero di fasi collegate. Rilasciare il tasto troppo presto o di sbagliare la programmazione. In questo caso non preoccupatevi, l'interfaccia a led vi mostrerà un errore. È sufficiente spegnere l'IQ Relay per alcuni secondi, alcuni minuti e dopodiché potrete riaccendere e ripetere nuovamente la programmazione senza alcun problema.